Sono 106 i piloti che hanno dato la loro adesione alla settima cronoscalata Monte Erice Storica, la sesta prova del campionato italiano velocità salita autostoriche che si correrà sabato e domenica prossimi sul classico tracciato che, da Valderice, conduce fino alle mura di Erice Vetta. Di questi, 83 saranno al volante di vetture storiche, mentre 23 guideranno delle vetture moderne. Si è iniziato questa mattina con le verifiche tecniche e sportive che si stanno svolgendo ad Erice nel parcheggio antistante Portatrapani. Domani mattina invece, a partire dalle ore 9, si disputeranno le prove ufficiali, mentre domenica, alla stessa ora, prenderà il via alla gara che si disputerà su due manche. Fra i piloti iscritti alcuni dei protagonisti del campionato italiano di specialità, molti dei quali provenienti da tutte le parti d'Italia. Fra le sport nazionali, il blazonato pilota di Buseto Palizzolo Andrea Raiti sul Lucchini proverà a dare filo da torcere al leader del campionato, il torinese Paolo Cantarella, già amministratore delegato della Fiat ed attuale presidente della commissione autostoriche ACI, al volante di una Osella SN. Molti comunque driver a caccia di punti tricolori, fra questi il romagnolo Alessandro Rinolfi, su Austin Cooper S, il brianzolo Ruggero Riva che con la sua Alfa Romeo GTV 2000 ingaggerà l'ennesima lotta stagionale con la catanese Michele Marino sua analoga vettura. Ancora il bolognese Salvatore Asta su BMW 2002T, il modenese Giuliano Palmeri che cercherà di imporsi anche in questa occasione con la sua Porsche 911 RSR, anche se stavolta troverà un nugolo di agguerritissimi avversari. Da Milano arriverà Alessandro Trentini al volante dell'unica monoposto in gara, una Fiat Abarth Formula Italia, mentre il fiorentino Tiberio Innocentini porterà in gara una rara Chevron B19-2000. Per la migliore prestazione assoluta, grande attesa per la sfida che si protrae da inizio stagione e che vede contrapposti il chietino Stefano Di Fulvio e il cerdese Totò Riolo, entrambi su Osella BMW.